Per prima cosa mi sento innanzitutto di ringraziare il Calcio Napoli, perché il Calcio Napoli ha mostrato interesse per il giocatore non dalle 22 di sera ma da parecchi giorni, anzi da molti giorni e questo per noi è anche importante sapere che abbiamo dei giocatori che sono ambiti da grandi società e il Napoli, posso dire, ha cercato un po' di fare di tutto per poterlo acquistare. Noi con la società Partito Napoli abbiamo un ottimo rapporto, credo che la volontà nostra dall'inizio è quella di proseguire un po' per quanto riguarda il nostro programma che abbiamo, per cui non siamo una società che cediamo così facilmente ai giocatori nel mese di gennaio e questo l'abbiamo dimostrato negli anni, perché io mi ricordo dal tempo di Simone Zazza che la Juventus lo voleva a tutti i costi, invece abbiamo preferito trattenerlo qui ma anche perché lui aveva la volontà di rimanere con noi fino al termine della stagione. Mi ricordo la passata stagione con De Frel, uguale, il giocatore preferiva stare qua e noi volevamo trattenere il giocatore perché la nostra politica è quella di portare avanti fino al termine della stagione con i giocatori che abbiamo, soprattutto quelli che riteniamo i più importanti. Con Matteo invece c'era un po' una volontà da parte del ragazzo e allora questo ci ha fatto un po' fare delle valutazioni per capire se ci potevano essere delle opportunità per noi, ma delle opportunità non tanto sotto l'aspetto economico ma sotto l'aspetto tecnico, per cui Napoli sapeva perfettamente che per noi prima cosa c'era una scelta tecnica. Quello che ci può dispiacere è anche il fatto che magari Napolitano aveva questo desiderio ma d'altrettanto ci abbiamo già parlato, lui è un professionista, se si poteva accontentare l'avremmo potuto fare. Lui sapeva benissimo la considerazione che abbiamo nei suoi confronti. Sa perfettamente di aver firmato un contratto pochi mesi fa con un allungo di contatto per cinque anni, per cui un contratto importante. È chiaro che penso che da parte di tutti ci sia anche un senso di rispetto di quello che si deve andare a fare. Il mercato di gennaio per noi è inteso come un mercato di riparazione, per cui dobbiamo cercare di trovare quello che ci può mancare. Sicuramente Matteo per noi, Napolitano, è un elemento determinante. Sta di fatto che abbiamo fatto uno sforzo importante per prendere Babacar, perché riteniamo che ci serva un giocatore di questo tipo. Per quanto riguarda la Juve, è vero, noi abbiamo un ottimo rapporto, ma è un rapporto personale. Credo che il rapporto ce l'abbiamo come la Juve, ce l'abbiamo anche con altri. Una volta ci davano come succursale della Juventus, cosa che noi abbiamo la fortuna di essere una società indipendente e con rapporti eccezionali con tutti. Quello che è vero, io questo l'ho riportato tali parole anche al Napoli, ad Aurelio De Laurentiis, dicendogli la Juventus ci ha chiesto soltanto se noi avevamo chiuso l'accordo con voi. Noi l'accordo gli abbiamo detto di no e che probabilmente non l'avremmo fatto. La Juventus mi disse, può darsi che magari anche noi possiamo essere interessati. Dipende dalle visite mediche di Quadrado e dobbiamo parlarne col mister. Non abbiamo mai parlato di cifre, per cui quando dicono è servito ad alzare il valore di Politano, no, perché la richiesta che ne abbiamo fatto al Napoli era non tanto una richiesta economica ma tecnica. Con la Juventus non abbiamo mai parlato di valori economici, per cui non c'è mai stata competizione. C'è stato soltanto interesse, ma l'interesse a volte non c'è stato soltanto da Juventus, ma ci sono anche interessi a volte di squadre straniere importanti che volevano sempre un po' l'evolversi della situazione napolitano. Prima l'esigenza sicuramente di ruolo e di un giocatore che avesse le caratteristiche di Babacar. Credo che la politica nostra del Sassuolo sia quella anche di dar la possibilità ai giocatori, perché parliamo di un ragazzo del 93, perché è un ragazzo ancora giovane, di poter magari ambire a dei traguardi ancora più importanti. La Fiorentina non aveva intenzione di cederlo. Io credo che questo, quando io all'inizio, perché penso che sia giusto dare anche i meriti chi porta avanti queste trattative, per cui con il nostro responsabile Guido Angelozzi, che è riuscito, grazie ai rapporti con la Fiorentina, a intavolare un discorso per poter arrivare al nostro obiettivo. Falcinelli poteva essere un'opportunità sia per la Fiorentina, ma anche per altri. Sta di fatto che Falcinelli noi l'abbiamo dato in prestito, con un diritto di riscatto alla Fiorentina, per cui sta adesso dimostrare al giocatore di poter valere. Per quanto riguarda la sostituzione di Gazzola, noi cerchiamo di promuovere i ragazzi che abbiamo, per cui a Japong riteniamo che sia un ragazzo che deve crescere. È un ragazzo importante, ci crediamo molto, è il giro della nazionale, per cui penso che sia il suo sostituto ideale. Tenendo presente che tra l'altro noi abbiamo acquistato adesso Lirola, perché Lirola era un giocatore in prestito con un diritto di riscatto e un contro riscatto e abbiamo fatto un investimento per tenercelo, per cui è un giocatore di nostra proprietà. Per quanto riguarda Cannavaro, anche lì abbiamo preferito in questo ruolo andare a puntare su un giovane. Crediamo in questo ragazzo perché Lemos è un giocatore di grandissime prospettive, due anni fa è stato considerato uno dei giocatori migliori nello suo campionato. Questa stagione non ha fatto bene, ma non ha fatto bene lui, ma non ha fatto bene un po' tutta la sua squadra. Speriamo in un suo rilancio, perché è un giocatore di grande potenzialità, è un giocatore che ha tantissime qualità, probabilmente deve inserirsi nel nostro campionato. Noi l'abbiamo preso in prestito, abbiamo fatto questo diritto di prestito temporaneo fino a termine della stagione, con la possibilità di riscattarlo per il prossimo anno. Un giocatore, come si è parlato tanto di paletta, piuttosto che vuol dire andare a non far trovare spazio magari a Goldaniga, che è un altro ragazzo che riteniamo che possa crescere e possa darci delle grandi soddisfazioni, anche perché finora ha fatto bene. Per cui penso che la prima cosa è che dobbiamo avere fiducia nei nostri ragazzi e soprattutto cercare anche di guardare un po' più in là. È chiaro che poi dopo tutti cercano di guardare il presente, però è troppo limitativo. Dobbiamo ogni tanto anche assumerci dei rischi, cercare di costruire un po' un percorso sia per i ragazzi ma anche per noi come società e mantenere quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.